charlotte m siamo qui per parlare dello schiaccianoci e il flauto magico e soprattutto del tuo esordio al doppiaggio proprio in questo film nel parlato e nel cantato raccontaci come è andata e come ti hanno scelta come ti sei trovata in questa nuova avventura allora è stata un'esperienza del tutto nuova è stato super emozionante perché anche l'altra sera all'anteprima ho pianto dall'emozione davanti a tutti infatti ho detto oh cavolo però è stata una cosa molto bella e soprattutto non sapevo quando mi vedevo al cinema sono stata brava o non sono stata brava non riuscivo a capire perché sembra che sento la mia voce ogni giorno non riuscivo a capire bene come fosse andata però quando ero in sala mi sono super divertita a doppiare marie la protagonista ed è stato super super entusiasmante bello e già da quando ero un pochino più piccola avevo questo sogno di doppiare un film un cartello animato e finalmente è uscito fuori lei è una ragazza molto determinata forte però tempo stesso è una sognatrice capace di amare di aiutare gli altri e di sacrificarsi per la sua famiglia se necessario ecco tu in cosa le somigli allora io sono una persona molto sognatrice ho un quadernino con 101 desideri neanche pochi 101 appunto ma perché proprio ho scelto io 101 dove c'è tutti questi desideri ogni volta che un desiderio sia vera lo cancello e ne riscrivo un altro così da fare in modo che siano sempre 101 e infatti per questo mi considero molto sognatrice molto aperta a nuove esperienze a nuove cose ho mille cose per la testa che mi passano in ogni secondo della mia vita e sono molto determinata e dolce come lei nel modo di fare mi affeziono alle persone come lei si è affezionata al principe e si sacrifica per la famiglia ma io direi che non è proprio un sacrificio sacrificarsi la famiglia cioè non è un sacrificio è qualcosa che fai con il cuore non è una cosa che togli da te ma che dai agli altri alla tua famiglia ed è molto importante per me questo aspetto perché la mia famiglia è sempre stata accanto a me in qualsiasi cosa io abbia mai fatto e mi è sempre supportato soprattutto mamma e papà e ora si sta creando un'altra nuova famiglia che sono tutti i miei fan quindi sono molto felice di questo ovviamente io parlavo di sacrificio perché nel film Marie ne deve fare cioè ne dovrebbe fare uno grosso che oggi fortunatamente insomma io sinceramente avevo dovuto un altro modo non sposare quello non sposare il signor Ratter no 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 però comunque sì mi sarei sacrificata ecco e a proposito anche di famiglia insomma sì mi dicevi tu che ti hanno sempre supportato ti hanno aiutato anche quando hai fatto il tuo primo video che avevi solo otto anni ma come si fa a fare un video otto anni brava infatti mia mamma mi reggeva l'ipod perché al tempo avevo l'ipod per ascoltare la musica mi reggeva l'ipod e diceva ma quando finisce? ho parlato per venti minuti non mi fermavo un attimo così mi è venuto tutto così però ecco come mi dicevi tu appunto loro ti sostengono sono contenti di questa tua diciamo fama e di questa tua attività più della fama sono contenti perché la fama viene dopo alla fine sono più contenti nel modo che ho di fare cioè mi vedono molto determinata nelle cose che faccio sicura quindi per questo sono fieri di me spero siano fieri di me però comunque sì siamo sicuri beh probabilmente perché sono contenti anche di vederti felice e realizzata quindi immagino sia quello torniamo un attimo al film cosa ti è piaciuto di questo film? allora una cosa che mi è piaciuta molto è stato il fatto che noi come sappiamo le principesse sono sempre state viste per la bellezza invece in questo film ho notato che George il principe George è più affascinato dal suo coraggio della sua dolcezza della sua determinazione che più della sua bellezza cioè la bellezza è proprio un aggettivo che dice alla fine all'ultimo è più concentrato sul suo carattere sul modo che ha di fare questa è una cosa molto bella innamorarsi di una persona ovviamente prima ti innamori fuori perché è la prima cosa che vedi però poi quando ti innamori dentro di una persona è molto bello perché riesci a innamorarti della persona di come è davvero e questa cosa mi è piaciuta un sacco del film e poi penso questa sia stata la cosa più bella e anche rivivere lo schiaccianoci in questa versione per i più piccoli molto molto bella senti nel film proprio anche perché per i più piccoli c'è tanta magia e ci sono due animali che aiutano due giocattoli trasformati in animali adesso insomma non spoileriamo troppo il film io ridevo troppo quando vedevo quei due animaletti facevano troppo ridere Ariete e Beccorosso e si chiamano nel film quindi ti volevo chiedere intanto se tu credi alla magia e poi che rapporto hai con gli animali non so se hai un cane, un gatto ti piacciono, non li sopporti io credo molto nella magia ma più della magia nel pensare positivo cioè nel senso io penso che chiedo molto nella legge dell'attrazione in queste cose perché quando tu pensi positivo quando tu pensi di essere la persona che vuoi essere alla fine riesce ad essere proprio chi vuoi e questa cosa è molto bella l'ho testata e funziona pensare positivo quindi io penso sia una sorta di magia perché è veramente molto bello pensare positivo e avere determinazione nelle cose che fai e poi gli animali sono molto importanti nella mia vita pensare che io ho iniziato tutto ciò dai penicotteri e quindi è stato proprio il mio animale preferito da cui è nato il film Flamingo Party che poi uscirà e tutto quanto e poi Fiocco che è il mio cagnolino molto carino a cui rivolgo tanto bene mi accompagna in ogni cosa che faccio nei viaggi mi sopporta e quindi sì a volte ci litigo anche con Fiocco perché mi fa arrabbiare mi fa cadere tutte le cose e io guardo veramente è vero l'ho visto nei tuoi video vedi questa è una mia mancanza l'ho visto nei tuoi video quindi dovevo saperlo che avevi Fiocco senti invece tornando un po' al tuo lavoro come si diventa una youtuber una tiktoker un'influenza insomma così giovane con così tanti fan ma non si diventa cioè non lo so anche io non mi ricordo molto della mia vita prima dei social però non penso si diventa penso sia una cosa che segui giorno per giorno giorno per giorno hai vari obiettivi varie cose da fare ma penso sia più anche un fatto di divertirsi in ciò che fai cioè nel senso se ti diverti a fare un video ti viene in mente di farlo un giorno lo fai e poi vedi come va ma quello viene dopo penso sia più nel momento che cosa ti piace fare che cosa ti dice il tuo cuore di fare penso sia più quello e poi anche un po' la sincerità tu sei autentica cioè tu sei così no? quindi forse anche quello che i tuoi fan colgono anche i miei amici mi dicono ma come fai a parlare cioè sei identica a come ti vediamo sui social perché sono imbranata come sono nei social faccio cazzo però sono dolce come mi vedono sui social appiccicosa come mi vedono sui social quindi sì sono davvero così a proposito di amici tu ti senti mai diversa dalle tue amiche dalle tue compagnie di scuola e loro ti ammirano anche insomma dal vivo ti ammirano anche standoti vicino parlando di amici vabbè ci sono alcuni amici che ho perso per questa cosa perché magari non lo so non erano veri amici ecco e altri invece che mi hanno fatto capire che ci sono davvero per me e io penso sono dell'idea di avere pochi amici ma buoni che ci sono quando ho bisogno che io ci sono per loro quando loro hanno bisogno e come dire la frase quando trovi un amico trovi un tesoro è stravero perché è molto difficile trovare una persona autentica che non sia falsa nei tuoi confronti al giorno d'oggi però anche a scuola sono contenti di ciò che faccio tantissimi miei compagni mi hanno detto voglio andare a vedere il film che hai doppiato organizziamo un'uscita insieme per andare a vedere il film che hai doppiato e quindi sì sono molto felice di questo bene gli amici persi beh quelli li abbiamo tutti purtroppo sai quanti ancora ne avrai nella vita ma quanti ne avrai anche di nuovi che saranno importanti ne siamo certi esatto senti come ti piace essere chiamata una content creator tiktoker youtuber come ti piace? allora a me non piace molto essere definita solamente youtuber perché è un po' come dire non superficiale però è come fermarsi lì quando in realtà non sono solo quello ma faccio tantissime altre cose al di fuori tipo adesso stavo dipingendo un quadro per dire così mentre aspettavi l'orario dell'intervista Charlotte dipinge un quadro no non so sono stati dei giorni dove ho fatto tante cose a volte ho bisogno di sfugarmi anche con questo quindi ho detto mamma se mi andava a comprare una tela mi l'ha comprata quindi ho disegnato un po' insomma lo trovi un po' riduttivo diciamo sì esatto preferirei essere definita come magari o artista essendo che faccio tantissime cose a modo mio oppure anche personaggio pubblico perché alla fine sono un po' dappertutto nei social mi piace fare tantissime cose quindi sì certo a tal proposito insomma lo ricordiamo l'abbiamo già detto prima sei uscita già con quattro singoli correggimi se sbaglio hai scritto tre libri uno tra l'altro di fumetti in cui tu ovviamente sei la protagonista giusto e poi hai doppiato in questo film Marine lo schiaccianoci e il flauto magico so che uscirai a breve con un altro film di cui sei la protagonista non so quanto ci puoi dire però almeno confermaci uscirà il primo gennaio il film si chiama Charlotte M Flamingo Party e non possiamo dire nient'altro possiamo dire che ci sono i fericotti e ci sarà un ballo basta bellissimo bellissimo siamo molto curiosi e un'altra domanda se non ci fosse stato il web quindi è vero che tu canti scrivi libri però diciamo che la notorietà l'hai avuta soprattutto grazie al web se non ci fosse stato il web cosa avresti fatto? allora da quando avevo quattro anni in realtà ballavo cantavo e già facevo studiavo recitazione facevo varie cose magari a volte entravo in sale di doppiaggio per scherzare un pochino per divertirmi e quindi avrei continuato con il percorso del cinema al di fuori dei social dello spettacolo e avrei fatto questo perché alla fine con o senza social faccio questo nella vita reale avrei invece parlato con il telefono con una telecamera da qualche altra parte o magari non so non saprei questo e poi avere continuato a scrivere libri perché comunque sia una cosa che già facevo quando ero piccolina pensa che quando tornavo a casa prendevo il computer di mia mamma e scrivevo tipo delle storie horror quindi già mi piaceva farlo e allo stesso tempo cantavo già quando ero piccola studiavo pianoforte quindi sì sarei stata la stessa di adesso senza i social anche sei una sorta di bambina prodigio ex bambina prodigio adesso cominci a essere grande oh in tutto ciò mi raccomando a scuola vai benissimo suppongo studi non ti perdi no assolutamente sono una persona molto organizzata e determinata nella scuola perché per me è molto importante la cultura riuscire a integrare ciò è difficile ma riesco a farlo molto volentieri perché alla fine è importante la scuola ma per me sono anche molto importanti i social ciò che faccio quindi faccio entrambi le cose a scuola vado molto bene ho la media dell'8-9 quindi sono molto felice sì a posto ti promuoviamo anche noi sei un'artista a tutto tondo grazie Charlotte allora prestissimo spero di rivederti presto siamo curiosi poi di vedere anche questo film e quindi ci ritroveremo intanto complimenti per il tuo primo doppiaggio sto morendo dall'ansia di vederlo quindi sì grazie per i complimenti ti ringrazio sei stata molto gentile ciao spettacolomania vi mando un abbraccio enorme a tutti quanti bacioni ciao 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 ciao